Volevamo porle questa domanda. Da lei vorremmo alcuni chiarimenti sugli indirizzi e la posizione delle istituzioni europee riguardo al patto di stabilità e di crescita. Dalle ultime dichiarazioni rilasciate ci sembra che regni un po' di confusione. Da una parte abbiamo il neocommissario Katainen che viene a parlarci di rigida applicazione del patto senza alcuno spazio di manovra e di persecuzione delle politiche d'austerità intraprese negli anni passati optando per la rigorosa disciplina di bilancio che ha portato all'acuirsi della crisi in Europa. Dall'altra abbiamo il sottosegretario degli affari europei Gozi che dichiara Sky TG24. La ricetta di Katainen di solo rigore e austerità è sbagliata e rischiosa. Non so se Katainen se ne è accorto ma se ne sono accorti milioni di europei alle urne. Infine anche all'interno del governo italiano che si appresta a guidare per un semestre l'UE esistono posizioni contrastanti. Se da una parte il premier Renzi invoca la flessibilità, dall'altra lei, uno dei ministri più importanti, sembra propendere per l'attuazione rigida del patto. Ci potrebbe chiarire per cortesia le sue idee a riguardo e cosa ne pensa della proposta inserita nel programma del Movimento 5 Stelle di non computare nel calcolo del rapporto deficit-pigli investimenti ricerca e sviluppo. Il premier Renzi si è esposto in questa direzione. Lei cosa ne pensa? Grazie. Grazie per la sua domanda. Mi permetta di ribadire qual è la posizione che io rappresento.